Da dove vieni? È la prima volta che viene all'Aquafan? Fammi vedere come scenderesti dal Black Hole con questa moto. Che musica ascolta chi guida un'onda SH? Manifesta la tua gioia quando riesci a evitare il traffico con l'onda SH. Ti hanno appena regalato questo splendido Honda SH, come manifesti la tua gioia? Chi porteresti con te per un viaggio su questo Honda X ADV? Fammi vedere la tua espressione quando scendi dallo strizza cool con l'onda X ADV. Mostraci come guidaresti Honda X ADV in fuoristrada. Fammi vedere la tua espressione quando scendi dall'Extreme con questa Honda CB125R. Dove andresti con i tuoi amici in sella alla CB125R? Ti hanno appena regalato questa splendida Honda CB125R. Come manifesti la tua gioia? Imita con la tua voce il rombo di motore di questa Honda CB1000R. Vengono a prenderti con la CB1000R per una serata fuori. Qual è la tua reazione? Sei in Viale Ceccarini a Riccione con questa splendida Honda CB1000R. Mettiti in posa e fatti un selfie. Fai un saluto a chi vuoi tu. Ciao. Ciao mamma. Ciao a tutta di vero. Ciao mamma, ciao more che tanto sei di là. Ciao a tutti, un bacio. Un saluto a tutta la papà. Ciao ai miei fratelloni. Ciao. Ciao mamma, ciao Davide, ciao papà. Ciao mamma, ciao Noah. Ciao Noah, sei il mio. Ciao mamma, sei il mio preferito Noah. Ciao papà, ciao mamma. A casa. A casa.